Come aumentare gli FPS su Fortnite? Ovviamente in questa nuova stagione che poi terminerà a novembre possiamo ancora aumentare gli FPS e migliorare le prestazioni sul gioco ovviamente grazie ai programmi come Nvidia App per le schede grafiche Nvidia. Per esempio andiamo così a scrivere Nvidia App qua sopra, clicca su Nvidia App Download ed ecco qua il programma. Questo è il primo programma che useremo nel video per abbassare la grafica e migliorare le prestazioni sul gioco. Scarichiamo così la versione beta, la installiamo, è molto semplice e poi una volta fatto vai a scrivere qua sopra Nvidia. Una volta fatto vai direttamente su grafica e come puoi vedere qui c'è Fortnite. Il gioco è ottimizzato e sta utilizzando le impostazioni personalizzate quindi in questo caso io dal pallino di qualità ho messo il pallino prestazioni. Come puoi vedere effetti basso, eliminazioni globali disattivate, il ray tracing se viene disabilitato è ancora meglio così poi anche più FPS però riduce le luci, le ombre, una bella qualità tipo come i riflessi sull'acqua e tutte queste cose qua vengono disabilitate e quindi tu devi rimuovere la qualità e mettere prestazione e fai applica qua. Quindi ottimizza il gioco, ottimizza la geometria, ottimizza le riflessioni, post elaborazione e la texture. E V-Sync invece viene disattivato per non bloccare gli FPS. In questo caso la scheda grafica che uso è la 3070 e gli FPS sono veramente molto alti. Con una 1660 Super che usavo prima, in alto a destra c'è proprio un video dove io facevo più di 250-260 FPS solo su quella scheda grafica, usando anche altri programmi. Quindi una volta ottimizzato su Nvidia App abbiamo il pannello di controllo di Nvidia. Quindi tasto destro sopra su questo qua, il logo di Nvidia e il pannello di controllo di Nvidia. Per AMD invece c'è il programma che si chiama AMD Adrenaline, quindi in questo caso vai su Google e scrivi AMD Adrenaline Edition ed eccolo qua. Il software AMD Adrenaline Edition. Io questo programma non posso installarlo perché non supporta il computer, quindi non posso neanche farvi vedere come impostare la grafica, quindi ho solo una scheda grafica Nvidia. Quindi sicuramente su quel programma c'è la stessa cosa di Nvidia App per ottimizzare la grafica. Ora in questo caso vai su Impostazioni, Programma e andiamo ad aggiungere Fortnite. Vai su Sfoglia. Vai sul volume dove tieni Fortnite. Fortnite Game, Binarys, 64 ed eccolo qua. Prendi l'applicazione più grande, Fortnite Client, 64 Shipping e fai Apri. Ed ecco tutte le impostazioni da settare su Fortnite. Puoi farti consigliare direttamente da Nvidia. Quindi in questo caso nitidezza non ci serve. Se aumentiamo la nitidezza perdiamo parecchi fps. Facciamo disattivato. Questo qua invece mettiamo disattivato, quest'altro disattivato. L'anti-ares modalità metti disattivato. Scendiamo fino a giù fino a trovare il filtro anisotropico. Questo qua invece serve soprattutto per renderizzare la grafica proprio da lontano. Quindi ti consiglio di mettere un 4x. Scendiamo fino a giù fino a trovare il filtro struttura qualità. Mettiamo prestazioni elevate. Scendi fino a giù fino a trovare modalità bassa latenza. Metti disattivato. Ottimitazioni con triad. Metti automatico. Ed ecco sincronitazione verticale. Metti disattivato. Noi non dobbiamo bloccare gli fps. Dobbiamo aumentarli. Quindi tecnologia monitor. Mettiamo compatibilità G-Sync. Se il tuo monitor ha questo G-Sync o FreeSync inseriscilo. E velocità di aggiornamento la più elevata disponibile. Hai fatto. Non devi fare più niente. Basta. Per la modalità bassa latenza ovviamente ti consiglio Ultra. Che è meglio. E basta. E fai applica. Applica più volte finché non si fa su Fortnite. Ora in questo caso abbiamo anche un altro programmino che ti ho lasciato in descrizione che si chiama Nvidia Profile Inspector. Ovviamente faccio sempre vedere questo programma perché è veramente ottimo. E se non ti piace la grafica come c'è Fortnite ti consiglio di... Lo apriamo un attimo. È un pacchetto RAR che puoi estrarre con il programma WinRAR. Con questo qua. Quindi scadichi il pacchetto su Mediafire. tasto destro sopra sul pacchetto di Nvidia Profile Inspector. tasto destro sopra. Per farti vedere, quindi per farti un esempio, tu devi scaricare questo pacchetto RAR, tasto destro sopra WinRAR. Estrai i file in Nvidia Profile Inspector e ti uscirà così questa cartella. Con questi tre file solo. Entriamo dentro e andiamo a scrivere Fortnite. Questo programma non funziona solo su Fortnite ma veramente su molti giochi. Quindi si collega direttamente alla cartella di Fortnite, proprio qua sul colore verde. Scendi fino a giù. Fino a trovare Transparency Super Sampling. Questo qua ci vai ad applicare 08. Ma semplice 08. C'entri fino a giù fino a trovare il Texture Filtering. Questo qua invece metti il più 2.7500. Stessa cosa anche con questo. Ovviamente poi Fortnite uscirà con una grafica tipo una grafica patata. Diciamo così, una grafica patata. Applici più volte. Se non ti piace quel tipo di grafica, puoi di nuovo schicciare qua su, quindi scrivere qua sopra Fortnite e cliccare qua sopra. Restore. Ti ripristini il profilo e ritorni alla grafica di Fortnite come prima. Senza che usi questo programma. Ora, quello che ci resta da fare è entrare su Epic Games Launcher. Dobbiamo entrare direttamente nella cartella di Fortnite e sui tre puntini per modificare le opzioni. Quindi, avviate Epic Games. Libreria. Tre puntini. Opzioni. Ed eccolo qua. Rimuovete del tutto la scelta del DirectX 12. Questo migliora solo la qualità. E text ad alta risoluzione. Poi, una volta fatto, devi prescaricare le risorse trasmesse. Così, facendo, aggiungerà nuove impostazioni su Fortnite, permettendoci così di modificare le impostazioni su Fortnite. Quindi, installa tutte le risorse che normalmente vengono trasmesse durante il gameplay. Ma ci saranno anche delle nuove impostazioni. Quindi, tieni solamente questo e fai applica. Tre puntini. Gestisci. Opzione di lancio. D3D. 1.1. DirectX 11. Lo dobbiamo avviare in modalità di rendering DirectX 11. Quindi, se lo mettete DirectX 12, la qualità è una meraviglia. La qualità DirectX 12. Ma DirectX 11 è di meno. Quindi, abbassiamo un po' la grafica del gioco e aumentiamo le prestazioni su Fortnite. E basta. Ora, quello che ci resta da fare è entrare direttamente. Ed ecco a voi Fortnite. Ovviamente, questa è la riduzione della grafica dei personaggi. E anche il paesaggio. Grazie al programma Nvidia Profile Inspector. Come ho detto, se non ti piace, puoi sempre rimuovere quell'opzione. Quindi, facendo il ripristino. Ora, in questo caso, vado direttamente su Opzioni. E vado direttamente su Modalità Finestra. Metto Schermo Intero. Full HD. Niente V-Sync. DirectX 11. Ed eccolo qua. Antillesi di superazione e Nvidia SS. In questo caso, vado a mettere No. Isoluzione 3D l'ho imposto su. Vado a impostarlo. L'ho imposto sul 50%. E faccio Applica. Isoluzione 3D dinamica no. Ombre no. Vicino il dotto. Texture. Ovviamente Texture provate a mettere Applica. Medio. E basta. Illimitati. Quindi, se poi non ti piace così la grafica, come ho detto, ripristini su Nvidia Profile Inspector. E su risoluzione 3D puoi impostare il 75%. E poi Applica. Togliete anche la risoluzione 3D dinamica e basta. Quindi, per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. E mi raccomando, non giocate a Fortnite su un hard disk. Mettetelo su un SSD che sono più veloci e migliori. E non avrete poi problemi di caricamenti, di shader, lag e così così. Quindi, grazie a tutti per questa visione. Noi ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Ciao.